No, no, non ti faccio male, giuro! No, piano piano, ovvio, se faccio più forte ma non vorrei... Dai, fai con due mani, ho coraggio, vai! Sì, ma non mi è mai capitato di aver ucciso nessuno! Sì, perché non si apre grave! Bello stesso! Ma, sicuramente non è così! Martina e che anima te l'ha? Anzi, se volete è fatto da un fabbro, lo faccio fare lui! Sì, 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 no, però... E niente, lo dovrei cercare! No, guarda, adesso non rompo io con le mani! I bracciali, con questi due, se la faccio! 32...3! Olè, libera! No, non.. Metro, poco, poco, tante... La prima cosa viene...